Praticamente tu stai sfilacciando il davanti perché sennò rimangono dentro i filetti no? Adesso tu stai tagliando ma dopo li avremo a misura oppure adesso noi dobbiamo poi ripassarli Adesso tu prendi l'altro e facciamo con quello più basso Questo è quello che ho comprato al mercato, parlo forte Questa velina qua ok la mettiamo lì appoggiata lì ok Mettiamoli appoggiata lì e adesso non l'abbiamo in misura ma Eh vedi veste attenti perché questo qua colla subito eh Diciamo che quello è bianco poi li ripasso tutti hai capito? Grazie Grazie Grazie